28.09 hanno Vanessa James e Morgan Tsipras, 29.90 Bazarov l'Arenotto. Quindi adesso andremo poi a valutare la fine, ma adesso andiamo a seguire insieme l'ultima coppia, è una coppia ovviamente che vuole l'oro, naturalmente Maxine Tcharkov, Tatiana Volo Toscia, sono i campioni europei in carica, ma giustamente come Maxine mi diceva proprio l'altro giorno, per noi è stato un europeo molto triste, lo ricordiamo, Maxine ha pattinato nonostante fosse appena scomparso suo papà, ma lui mi ha detto, it's my job, it's life, è la vita, è il mio lavoro, dice non abbiamo ovviamente festeggiato, non abbiamo preso questo risultato con la gioia con la quale l'avremmo presa in altre occasioni. Non è cambiato nulla, noi adesso siamo qui per pattinare, al meglio. Il loro padrino. Il loro padrino. Un e due piedi per Tatiana. Bellissimo lutto. Grazie. 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 sperando che 2.000 erano intorno all'8 o 8 o qualche cosa, normalmente Volosoz-Zartranco prendono intorno al 9, quindi dovrebbero farci. Siamo dunque al punteggio finale che definirà la classifica di questa prima gara del campionato del mondo, di questa prima gara di short program per quello che riguarda le coppie d'artistico. Il punteggio di 75 ed 84 vanno a battere due Amel Radford perché ovviamente non sul tecnico come aveva ben sottolineato Franca Bianconi ma sui components e davvero volano in prima posizione. Dunque la situazione da Diana Volosoz-Zartranco sono primi con 75-84, 39-70 per il tecnico Element, 36-14 per quello che riguarda i components.